e allora riprendiamo il 500 storico e andiamo a fare delle dei controlli prima di effettuare l'equilibratura oppure passare alla testata andiamo a fare il falso montaggio del motore della parte di sotto quindi andiamo a controllare per prima cosa le giuste tolleranze delle bielle allora andiamo a prendere i spinotti togliamo l'olio in eccesso quindi andiamo a asciugare gli spinotti facciamo anche sull'occhio della biella quindi andiamo a prendere gli spinotti e facciamo un primo controllo per vedere la giusta tolleranza lo fate entrare sulla biella e vedete deve scivolare giù velocemente cioè senza attrito e niente e non deve avere più che altro tolleranza di gioco eccessivo cioè praticamente non si deve muovere quasi e facciamo un altro controllo pure sulla tra biella e poi per valutare la giusta tolleranza andiamo a prendere un po' d'olio 40 lo andiamo a mettere sulla punta dello spinotto quindi andiamo a fare un controllo sulla biella come lo andiamo a rimettere dentro quindi lo appoggiamo sulla parte di sotto e lo lasciamo stare quindi deve scivolare lentamente ok una volta che finisce di scivolare possiamo controllare pure l'altro spinotto e andiamo a vedere lo stesso lavoro quindi lo portiamo di sotto e lo lasciamo scendere questo addirittura non scende tanto velocemente proprio perché quella piccolezza di differenza di piccola tolleranza anche fa ok però rientra nella norma ok lo vedete basta aggiungere un pochettino poi scende da solo e allora fatto questo controllo andiamo a fare a togliere i segmenti dal pistone proprio per poter sul pistone se andiamo a valutare la a intromettere dentro lo spinotto vediamo che ok a volte con il freddo comunque mettiamo al centro lo spinotto e vedete che se andiamo a misurare sia la parte di sopra con la parte di sotto sono alla stessa altezza quindi lo spinotto si trova a un'altezza mediana del pistone proprio perché non è andato a togliere questa parte di sotto del pistone altrimenti quando il pistone si porta appunto morto e va in scoppio l'intraversamento del pistone non fa altro che avere attrito e il pistone inizia a fare rumorosità si va a togliere leggermente quando va in temperatura però non viene contrabilanciato quindi questo movimento oscillatorio del pistone quindi non andarlo a fare al limite se qualcuno vuole togliere del materiale per alleggerire un po' il peso del pistone a parte ci sono quelli leggeri però si può lavorare si può lavorare lo spinotto quindi sulla parte dove vanno i fermi fino a un certo punto dove non va a lavorare la biella si possono fare leggermente delle torniture interne coniche proprio per alleggerire un po' perché qualcosa che andiamo a togliere sullo spinotto è come se andiamo a togliere un po' mezzo pistone e allora e allora andiamo a fare togliamo i segmenti per fare un controllo poi di montaggio per la spoggenza del pistone quindi andiamo a togliere il primo segmento lo sfiliamo delicatamente da una parte e andiamo l'accompagniamo a girare senza fare rigare il cielo del pistone poi togliamo il semirrasco olio sempre appoggiando su quattro punti del segmento quindi in questo modo e divarichiamo il giusto necessario per poter uscire da vedere che sono contrassegnati con una scritta sopra proprio per avere la direzione rivolta verso in alto del cielo del pistone il segmento questo monta un segmento a tre pezzi quindi nell'aggiuntura in fase anche di montaggio non andiamo a fare coincidere i due segmenti cioè la parte superiore con la lamella inferiore sulla stessa direzione ma al limite andiamo a girare poi in fase di montaggio andiamo a girare almeno di 15 gradi 20 gradi così di spostamento così non abbiamo una fuoriuscita di olio andiamo a tenere qualcosina in più quindi lo togliamo in questo modo il segmento lo andiamo a tirare uno dall'altro lato lo sfiliamo leggermente a giro e in questo caso qua lo andiamo a mettere da parte è venuta fuori anche la lamella di sotto comunque togliamo l'altra parte del segmento lo andiamo a girare ok questa è la parte della mollettina interna per dare pressione al rascolio e questo ci serve il pistone per poter fare il controllo della sporgenza quindi vado a fare pure l'altro pistone ok andiamo ad accoppiare le bielle quelle lavorate per questo motore ripeto visto che andiamo a mettere qualcosa un po' più sportivo è consigliabile sostituire le bielle proprio perché su quello originale vanno a rompere le colonnette e allora mettiamo un po' d'olio possiamo guardare anche l'impostazione del pistone quindi la parte larga numerata se andiamo a misurare la parte larga che va nel senso di rotazione proprio possiamo misurare in questo modo questa è la parte abbiamo 50 e da questa parte vedete abbiamo di meno quindi questa parte che è più larga è nel senso di rotazione anche se abbiamo una lancetta che poi qua indica la parte del volano invece dovrebbe indicare la distribuzione proprio perché questi sono i pistoni che vanno a montare la Panda 30 ok però sono uguali quindi andiamo a montare la parte larga con la parte numerata delle bielle ok montiamo l'altra pure e allora ok montiamo le bronzine e andiamo a copiare tutto l'insieme del motore andiamo a vedere come si comporta l'esporgenza del pistone d'accordo va bene montiamo le bronzine sulle bielle quindi le andiamo a inserire con la linguetta di riferimento sulla bronzina proprio sulla sul calpellotto oppure sullo selo della bielle ce li prepariamo per poter montare poi tutto quindi ora andiamo a montare l'albero motore e mettiamo i cilindri e le bielle facciamo questo controllo io ho già pulito tutto un po' andiamo a pulire se ci sono dei residui di polvere anche se facciamo un falso montaggio altrimenti andiamo a rigare un po' l'albero motore ok sposciamo qualche cosa e andiamo a inserire le bronzine con l'albero motore non sono messo in un banchetto per metterlo sulla staffa proprio perché lo vado a farvi vedere non ho al limite come poterlo mettere ok andiamo a vedere così viene meglio a guardarlo allora andiamo a inserire l'albero motore prima dal lato del volano e poi lo appoggiamo così mettiamo le bronzine con un po' tolio inseriamo la parte della distribuzione quindi cercando di entrare prima il supporto e poi l'albero motore ok entriamo pure la parte posteriore poi mettiamo almeno due bullone per andare un po' a bloccare il tutto e allora mettiamo in allineamento andiamo a entrare ok prendo due bulloni perché l'albero motore deve girare come vedete libero quindi andiamo a bloccare un po' il tutto per vedere l'allineamento allora inseriamo due bulloni per parte già vanno bene li portiamo a contatto con il supporto con il monoblocco e poi lo andiamo a bloccare dopo come vi ho spiegato la volta passata ok lascio i supporti lenti dei bulloni proprio per andarlo poi a stringere dopo e allora giriamo e andiamo a inserire due prigioniere per per cilindro da poter bloccare poi i cilindri e fare il falso montaggio e allora ho bloccato già due bulloni da una parte e dall'altra e questo è come deve girare l'abromotor cioè con due dita deve poter girare e lasciarlo in un posto e avere la forza di poter scendere quindi anche dall'altro lato poi ripeto è in base all'olio a secondo come è messo come però con due dita deve poter girare comunque andiamo a montare i cilindri la piastra e i pistoni e poi andiamo a controllare il discorso della spoggenza dei pistoni ho montato i quattro prigionieri quindi cosa vado a mettere sotto vado a mettere due supportini di legno così per sollevarlo e non avere ostacoli sull'albero motore di girare e allora per prima cosa mettiamo la piastra quindi nella piastra c'è questa piccola insenatura fatta proprio per andare a vincolare sulla parte dove c'è la cannotta della salita dell'olio sull'albero a bilancire quindi mettiamo la prima piastra e andiamo a mettere i cilindri dentro e poi una volta fatto il falso montaggio andiamo a numerare da questa parte dall'altra quindi andiamo a fare il numero uno e il numero due dei cilindri e poi un'altra lavorazione che poi dobbiamo fare sui cilindri come in questo caso una volta che vengono rettificati si va a fare un 60 gradi dalla parte dove per poter entrare le fasce del pistone io qui momentaneamente ancora non so se lo devo accorciare quindi il cilindro è inutile andarlo a fare prima ripeto fare un primo un falso montaggio e poi fare tutte queste accorgimenti ok allora andiamo a inserire le bielle mettiamo un goccettino d'olio ok la parte larga sempre nel senso di rotazione in questo caso questo è il numero due andiamo a mettere penso già che come esporgenza ci siamo bene o male dai calcoli che ho fatto con lo spessore da 3 mm per compensare quello del quello della biella vediamo cosa esce fuori andiamo a bloccare pure mettere il primo pistone ok andiamo a montare i cappellotti in questo caso faccio un sossegno dall'altro lato ok andiamo a mettere numero uno e il numero due mettiamo sempre un po' d'olio purtroppo a volte c'è qualche difficoltà come impostazione che sono messo male per fare vedere un po' la parte del video quindi mi andate a perdonare di qualche di qualcosa che tralascio ok ok diamo la legge bloccata ai dati ai bulloni diciamo ai dati delle bielle e allora per fare un precontrollo prima andiamo a bloccare i cilindri quindi io vado a mettere due tubi per bloccare la parte dei cilindri così in questo modo e andiamo a mettere quattro dati sotto da bloccare e allora questo è il controllo da fare per la sforgenza quindi azzeriamo prima il comparatore su una superficie lo mettiamo a zero per poter controllare il rientro del pistone e allora visto che abbiamo messo l'olio sulla biella lo facciamo scendere prima a punto molto inferiore così da avere uno strato di olio anche sopra la biella e non essere nella parte di riposo da creare quello spazio dell'olio proprio anche sopra lo stelo della biella quindi lo portiamo a punto molto superiore e andiamo a vedere il punto di massima alzata in questo caso siamo un millimetro zero cinque sotto il piano ok andiamo a vedere più da vicino vediamo se e allora uno zero cinque il secondo pistone poi lo passiamo nel primo andiamo a misurare e in questo caso abbiamo uno zero due quindi abbiamo due centesimi di spostamento quindi il secondo l'abbiamo leggermente più basso ma di due centesimi non è calcolabile questo spazio ok come vi ho detto io nella volta passata su un motore stradale andiamo come come spazio di switch da 1 e 2 a 1 e 4 quindi in questo caso che cosa si va a fare una volta che siamo con i cilindri bloccati le bielle strette anche il banco nella posizione che abbiamo dato il colpettino di assestamento proprio sui supporti questa è la misura che abbiamo allora che facciamo andiamo a togliere di nuovo i pistoni li andiamo a segnare quindi il numero 1 e il numero 2 anche perché poi ci sarebbe da vedere qualche cosa sulla tolleranza dei cilindri e pistoni e in questo caso andiamo a togliere quindi 18 centesimi quindi nel primo e 17 nel secondo ma io faccio 2 e 2 così andiamo a fare quindi un millimetro e 22 di switch sul primo cilindro e in questo caso visto che il secondo siamo quasi su 4 centesimi quindi quasi 5 con i due andiamo quasi 1 e 25 1 e 24 ok questa è l'altezza dello switch da fare su un piccione stradale e in questo caso prima di andare a fare l'equilibratura che poi andiamo a parlare andiamo a fare poi un controllo delle sacche valvole proprio per avere una dimensione del peso anche se poi è rilevante possiamo calcolare la differenza del peso che andiamo a togliere sui pistoni allora altro controllo da fare prima di procedere poi agli altri lavori quando siamo appunto molto superiore andare a controllare in questo punto della in questo punto tra la biella e il cilindro che ci siano almeno due millimetri di spazio nella fase di di girare la biella ok quindi andiamo a controllare sia la parte superiore che poi scendendo il profilo della biella e anche nella parte di sotto quindi andiamo a controllare questa distanza che ci sia io faccio di tutto per poterlo fare arrivare a vedere come vedete ci devono essere sempre quella distanza tra biella e il cilindro sempre da due millimetri poi se scendiamo l'albero motore e giriamo la biella andiamo a vedere che nella parte del punto molto inferiore vedete dove va a finire il pistone quindi vediamo un punto dove sia più illuminato lo voglio fare vedere la parte del mantello del pistone arriva proprio al labbro del cilindro e questa parte è tenuta ad andarla a togliere proprio ripeto è una questione di di bilanciatura del pistone nella fase di della rotazione del pistone nella fase della rotazione quindi nella parte dove va a salire nel punto molto superiore e poi incomincia a scendere questo serve a bilanciare la rotazione del pistone e non avere sbattimenti laterali dove va a creare rumorosità quindi andare a vedere proprio la parte del pistone che non deve uscire ok quindi fate un controllo tra il primo e il secondo cilindro allora altra cosa da poter valutare sempre nel cilindro è che una volta che abbiamo messo lo spessore di sopra nel cilindro abbiamo sollevato i cilindri quindi non abbiamo quel classico inconveniente che il cilindro fuoriesce lateralmente in questa parte dove va a passare il contrappeso del labbro motore ok se andate a montare delle bielle un po' più basse e avete questo ostacolo dell'albero motore che potrebbe incidere nella fase di rotazione come vedete va a passare proprio nel mezzo dei due cilindri quindi dovete valutare se c'è lo spazio da potere sia da una parte o dall'altro lato dobbiamo avere sempre quel millimetro di distacco proprio dal del contrappeso del labbro motore d'accordo in questo caso abbiamo alzato i cilindri questo problema non c'è però è sempre da poter controllare e altra cosa così andiamo a finire con la parte di sotto una volta che andiamo a mettere l'albero a cam sempre da poter sostituire i bicchieri proprio perché nella fase di lavorazione devono coincidere le due facce sia dell'albero a cam con i bicchieri delle delle punterie quindi andare a sostituire i bicchieri proprio per avere un appoggio proprio lineare di tutto il profilo del bicchiere d'accordo ok andiamo a vederci che poi risentisce sul prossimo video